Siamo a caccia di conferme e novità nel prestigioso stand di casa Fausti. Giovanna, cosa ci presenti? Vi presento il modello Dea Luxury, questo nello specifico in calibro 410, è la nostra nuova doppietta presentata nelle fiere precedenti, è una doppietta con la bascula arrotondata, cartelle lunghe, incisioni all'inglesina finemente eseguite a mano, un calcio all'inglese e la guardia lunga. Ovviamente è possibile averla in tutti i calibri, ma nello specifico ho nelle mie mani un calibro 410, proprio perché noi siamo stati tra l'altro i primi a credere in questo piccolo calibro, per cui sono orgogliosa di presentarla qui. Un'altra cosa importante che vorrei dire a tutti i nostri amici cacciatori è che Fausti quest'anno celebra il settantesimo anno di anniversario dell'azienda, quindi siamo molto orgogliosi di annunciare questo, grazie anche a tutti i nostri amici cacciatori che ci hanno permesso di ottenere tutti i risultati che abbiamo sicuramente avuto in questi anni. Più avanti una presentazione ufficiale alla stampa di due armi molto belle, che saranno proprio le armi commemorative di questo importante evento. Continuate a seguirci proprio per celebrare il nostro settantesimo con noi. Grazie a tutti i nostri amici.